Ciao, mi chiamo Anna e lavoro per i CISV in Mali da due anni in un progetto in appoggio alle associazioni locali di allevatori. Ho bisogno del vostro aiuto perché i pastori possano continuare a svolgere la loro attività nonostante tutte le difficoltà. E quindi grazie a pozzi, alla semina di nuovi pascoli, alla disponibilità delle cure veterinarie e a tutto ciò che può garantire la sopravvivenza degli animali in tutti i periodi dell'anno e la stabilità economica e sociale degli allevatori, perché penso che in Mali si possa ancora continuare a vivere dignitosamente e in pace. Grazie per il vostro aiuto.